La storia è la storia evitabile Guardate il ragazzo che lavorava qua Certo E poi mi diceva che c'è un altro ragazzo Guarda qua c'è tanto per pensare la cosa Guarda il problema che lo sai qual è C'è anche un recupero E' un familiari mio E' un macciato di m*****o familiari mio Non c'è Però se come io non gli voglio fare Se come io non gli voglio fare danno Ai*****o Dobbiamo aiutare questo Però gli fatti vuoi che sono vicini ai vuoi Se vuoi leggere l'Ucraina Ma a posto Da parte d'uori tu hai neppucato a ricevere No 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 E' un scopo Partito Qui Fra the